Fallito. Perché Mario Rossi è un fallito? Commento. Pensare che una creatura sia un fallito presuppone che essa abbia perso tempo nella sua attuale incarnazione e che sia rimasta definitivamente sconfitta nella lotta per la vita. Per i maestri immateriali il fallimento non esiste. Serve al cosiddetto fallito per fargli avere in una prossima incarnazione disgusto per il fallimento.